Ennesimo incidente, altri 12 morti, che cosa si può fare per evitare e ripetersi gli incidenti di questo tipo? Una cosa straordinariamente semplice, i datori di lavoro piuttosto che rivolgersi ai caporali potrebbero rivolgersi all'intermediazione pubblica, potrebbero rivolgersi al mercato, quello pubblico del lavoro potrebbero ovviamente applicare i contratti, sarebbe tutto molto più semplice ovviamente e invece no, stiamo a certificare ancora una volta questi tristi eventi, eventi che si possono e si devono ovviamente evitare stiamo lavorando perché si metta in piedi un'applicazione della legge, la 199, che è una legge fatta ad hoc per evitare che possa continuare ad esistere questo fenomeno, che si possa debellare questo fenomeno che da troppo tempo, ahimè, continua a certificare morti e sfruttamento soprattutto nei nostri territori, quelli pugliesi ma non solo quelli pugliesi, è una legge che è molto osteggiata dai rappresentanti datoriali e sulla quale invece dobbiamo lavorare. Oggi proveremo a chiedere a Salvini, allo stesso Presidente del Consiglio di dare una spinta forte perché questa norma si applichi soprattutto nella parte che attiene alla prevenzione del fenomeno.